Che effetto fa? Io gioco a pallone praticamente da 30 anni e quindi posso dire che non è un bel effetto decidere una cosa simile, però è chiaro che nella vita ci sono dei momenti in cui devi scegliere e quindi più volentieri che cercare fortuna in altre categorie o maglie mi fermo qui, anche perché sono sicuro che di aver dato tanto a questo sport ogni giorno della mia vita, tanto per tutte le squadre per cui ho giocato, però sono certo veramente di aver dato tutto quello che ho per il Prato, quindi sono tranquillo, sono anche felice di potermi guardare indietro e non dovermi rimproverare niente perché comunque veramente sono contento e orgoglioso per tutto quello che ho fatto.